My Cinderella Colografia di 32 counts su due muri Abbiamo un restato al 24esimo counts al terzo muro Un restato all'ottavo counts al settimo muro Poi abbiamo l'undicesimo che è tagliato al decimo counts e segue il taglio di due e poi abbiamo l'ultimo muro che riparte dal diciassettesimo counts e ha una modifica sul finale Iniziamo a vedere la progressiva con i passi Parto con il destro e faccio il jack quindi sesca destro cross di sinistro dietro il destro ora mentre rientro il destro guardo il heel di sinistro e mentre rientro con il sinistro guardo il cross destro davanti al sinistro Qua faccio un turn di un quarto e un quarto verso destra quindi giro un quarto, giro un quarto e shuffle in avanti di sinistro diagonale verso destra shuffle rock side di destra rock di cover e coster cross destro il crocio dietro o avanti rock side di sinistro rock di cover ron de jam sinistro che gira di mezzo verso sinistra e chiude il stop ron de jam stop rumba box destro modificato quindi sesca destro together sinistro e shuffle in avanti di destro shuffle sesca sinistro together destro e shuffle in avanti di sinistro shuffle ora sesca destro e flick sinistro sesca sinistro e flick destro out in jump out cross del destro davanti al sinistro in jump cross ora faccio una wind che gira di mezzo verso sinistra e hook back di destro questo giro si può fare anche con un jump in giro di mezzo verso sinistra qui il muro è terminato vediamolo con il conteggio 5 6 7 8 1 2 e 3 e 4 5 6 7 e 8 1 2 3 e 4 5 6 7 8 1 2 3 e 4 5 6 7 e 8 1 2 3 4 5 6 7 7 e 8 il terzo muro è restato nel 24esimo caso vediamo dove è restato 5 6 7 8 1 2 e 3 e 4 5 6 7 e 8 1 2 3 e 4 5 6 7 e 8 1 2 3 e 4 5 6 7 e 8 5 6 7 e 8 qua abbiamo restato il terzo muro il terzo muro è restato sul front wall il terzo muro è restato sul front wall vediamo dov'è 5 6 7 e 8 1 2 e 3 e 4 5 6 7 e 8 5 6 7 e 8 abbiamo l'undicesimo muro tagliato al decimo caso al quale segue il piccolo tag il tag vediamo dov'è tagliato il tag 5 6 7 e 8 1 2 e 3 e 4 5 6 7 e 8 1 2 il tag mi giro di metto verso destra facendo un rock in avanti di destra con il friki cioè la rotazione del tacco sinistro verso l'esterno quindi giro tocco anche il cappello faccio il friki di sinistro e recover tornando sul primo muro quindi sul front wall quindi con il conteggio il tag diventa 1 2 2 l'ultimo muro riparte dal diciassettesimo count e ha una modifica vediamo dov'è 5 6 7 e 8 1 2 3 e 4 5 6 7 e 8 1 2 3 4 5 6 unguai 360 gradi verso sinistra 7 e 8 e qua ho terminato vediamo la ballata 2 4 5 6 6 6 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.